Vogliamo un attimo spiegare il senso di questa iniziativa Muta la città? Un'iniziativa che viene da un progetto che è durato un anno, quindi una cosa molto particolare per la scuola perché ha permesso il coinvolgimento non solo di altre scuole che poi vedrete dal liceo artistico a due istituti comprensivi, il 4 e il 10 di Pescara, ma soprattutto ci ha permesso di coinvolgere la città, la cittadinanza di Pescara coinvolgendola in prima persona all'interno di quello che sarà il racconto che sentiremo nelle due giornate, la prima che sarà il 19 sera alle ore 21 al Flaiano e il mattine e il giorno dopo riservato soprattutto alle scuole. Hanno fatto una ricostruzione storica di tutto ciò che riguardava i fatti del passato proprio per ridare memoria storica alla città di Pescara attraverso una ricostruzione fatta dai ragazzi quindi dove il teatro, le arti sceniche di cui il nostro liceo ha curato appunto le scenografie, le arti filmiche e le riprese fotografiche hanno consentito di dare luce su questi fatti accaduti per riportarli all'attualità e per far riflettere anche in parallelo con i fatti che oggi all'attualità prendono la nostra attenzione.